Radio Stereo 5 presenta CNA Cuneo, dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18 e 10 e ogni martedì alle 11 e 10. Siamo nuovamente giunti all'appuntamento con CNA Informa, il format di CNA Cuneo. Oggi vogliamo parlare del successo che ha riscontrato la serata sulle opportunità commerciali in Costa Rica, alla quale rappresenta Patrizia Dalmasso, direttrice di CNA Cuneo, che oggi è qui con noi e ce ne parlerà. Benvenuta direttrice. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Ci dica com'è andata questa serata sulle opportunità commerciali in Costa Rica. Direi che è stato un successo anche perché il Costa Rica rappresenta comunque una realtà economicamente in crescita e soprattutto come situazione politica anche tranquilla e quindi rappresenta anche, diciamo così, un porto sicuro per le aziende che hanno intenzione appunto di esportare o comunque di andare a lavorare in paesi anche extra web. Abbiamo avuto appunto una fotografia molto positiva, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'agroalimentare e delle costruzioni in generale, ma soprattutto anche di complementi di costruzione, con la testimonianza anche di imprenditori che stanno già operando da decenni comunque su questo territorio e che hanno veramente visto tutto l'evolversi della situazione economica appunto del Costa Rica e che comunque hanno ribadito appunto che questo è il momento veramente ideale per poter andare a così proporre prodotti di eccellenza, quindi tutto quello che è l'agroalimentare, ma soprattutto anche poi proprio il trasferimento di manodopera specializzata e qualificata, anche con appunto la fornitura di quelli che sono i complementi nel mondo delle costruzioni a partire, diciamo così, da cose proprio più strutturali, anche però a complementi di arredo, quindi proprio a 360 gradi in tutto quello che riguarda il mondo dell'edilizia. È un mercato in forte espansione, come dicevo prima, che in questo momento vede proprio costituirsi la base di grandi catene alberghiere e comunque anche di piccoli ristoranti, di grandi e di piccole realtà nel mondo comunque della ristorazione, nel mondo dell'hotellerie e quindi le aziende italiane sono assolutamente ben viste per poter concorrere così alle finiture, alle costruzioni e agli arredamenti, ma in più soprattutto i nostri prodotti sono sicuramente richiesti per essere inseriti in queste grandi catene di ristoranti e di hotel, ma anche nella grande distribuzione. Grazie. Noi salutiamo Patrizia Dalmasso, direttrice di CNA Cuneo. Alla prossima. Grazie, buon lavoro a tutti. CNA Cuneo è il programma di Radio Stereo 5 dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18.10 e ogni martedì alle 11.10.